Ciao ragazzi, posto? Tutto bene? Qua mi dicono che c'è qualcosa di importante da festeggiare. Dobbiamo fare un annuncio un po' particolare. Mi sposiamo. Lo so che mi sposate e che pensavo che adesso si cominciasse a parlare anche ad altro. Siete sicuri? Fate sul serio o così per dire? Mi sono perso la prima reazione ovviamente dei tuoi genitori ma anche dei nostri. Io non sono riuscita a dirlo perché mi sono emozionata. Quindi secondo me mamma e papà avevano pensato forse in un quarto nipotino e quindi avevano... Quando invece abbiamo detto che ci sposiamo erano contenti. Invece i miei hanno fatto ma eh quindi? Cioè per loro era già automatico. Qual è sta famosa bottiglia con cui hai annunciato a casa? E beh io a casa mia ho voluto bere con un bello champagne. Infatti quando lui è arrivato a casa con questa bottiglia... Ormai si sapeva. Ehm... Ehm... Mio padre aveva già capito insomma. Sono cose che con il mio lavoro non potrei fare. Torno a casa con una boccetta di un acido e... Siete sicuri? Sì sì Sicuri sicuri? Eh ormai... Siamo sicuri. Grazie.